Buongiorno e bentrovati all'ultimo appuntamento settimanale con i giornali in edicola, la nostra rassegna stampa. Scorriamo insieme i titoli di oggi sabato 16 novembre. Tre gli argomenti che troviamo praticamente su tutte le prime pagine dei giornali. La telefonata di Scholz a Putin che di fatto riapre il dialogo tra Europa e Mosca sulla guerra in Ucraina. Il secondo argomento riguarda la violenza nei cortei di protesta degli studenti che divide anche la politica. E poi le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella ai giovani editori sulle leggi da promulgare ma anche sui rapporti tra i poteri dello Stato. Allora andiamo subito sul Corriere della Sera che titola riparte il dialogo con Putin. Scholz un'ora al telefono con lo zar. Ferma la guerra. Il disappunto di Zelensky. Le mosse dopo l'elezione di Trump. Berlino dice che manterremo i contatti mentre dal Cremlino fanno sapere che la pace si otterrà solo con i nuovi confini. E poi di spalla troviamo a sinistra il capo dello Stato Sergio Mattarella che dice io sono arbitro e ho firmato leggi che penso possano essere state sbagliate. Tensione intanto sull'autonomia. A volte ho promulgato leggi che non condividevo. Il presidente Sergio Mattarella interviene all'osservatorio giovani editori. La metafora dell'arbitro è calzante con il mio ruolo spiega. Mentre a centropagina vedete gli scontri tra studenti e polizia. Sangue sui volti dei politici. Scontri ai cortei degli studenti. La Meloni dice che sono indegni. Mentre Heli Schlein, leader del Partito Democratico, esprime la sua solidarietà agli agenti. Manifestazioni violente in 30 città. Scontri tra studenti e polizia. Agenti feriti da un ordigno rudimentale. Le foto della Premier, Meloni e di altri ministri. Insanguinate. E c'è anche la vicenda di cronaca. Margaret nel centro era proibito operare. I genitori chiedono mai più i permessi negati ai medici. leggiamo. Un ambulatorio medico, sì, dove però si eseguivano interventi chirurgici non autorizzati. E in questa zona oscura che ha trovato la morte la 22enne Agatha Margaret Spada, che a quel centro di Roma si era rivolta per un piccolo ritocco al naso. Nessuna cartella clinica è stata trovata poi la morte della giovane. Poi c'è un intervento, sempre qui sul Corriere della Sera, del sindaco di Milano. Perché dico no al ritorno del nucleare? Parla proprio Beppe Sala, che dice che il tema energetico rappresenta una questione centrale nel dibattito pubblico, come si vede in questi giorni, anche attraverso le prese di posizione del Presidente del Consiglio. E ci spostiamo sulla Repubblica, che invece titola sulle parole del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, no a troppo potere. Il Presidente risponde ai giovani sulla democrazia e sul conflitto tra gli organi dello Stato. Le regole si rispettano, nessuno invada il campo di altri. Ho firmato leggi che non condividevo. Intanto Salvini parla con la Premier Meloni. Se cade l'autonomia differenziata, si ferma anche il Premierato. E leggiamo. Concetto Vecchio scrive «Un giorno l'ha fermato un signore e gli ha detto «Presidente, non promulghi questa legge. È a fin di bene». E ora, qui dal palco del Salone delle Fontane, all'Eur, nel dialogo con mille giovani, Sergio Mattarella rivela di avergli risposto «Se io violassi le regole a fin di bene, poi si abilita chiunque a violarle a fin di male». Ed è una risposta sciasciana che nasconde una preoccupazione e un tormento per l'inverno della democrazia, per quel che ci potrà accadere. Allo stesso tempo è felice di essere con i ragazzi. In sala non volano a Mosca perché proprio loro devono sapere. E infatti risponde alle sei domande degli studenti. Per 55 minuti sono i giorni dei pieni poteri di Trump. E a proposito delle pagine internazionali troviamo Schulz che telefona Putin e provoca l'ira di Zelensky, il caso Ucraina. Mentre vedete di spalla la protesta degli studenti in piazza, scontri a Torino e poliziotti feriti. E ancora blitz di teppisti in sala per il film su Berlinguerra, ne scrive Concita De Gregorio. E passiamo alla stampa, il quotidiano di Torino che proprio da Torino fa parlare Mattarella. Ho firmato leggi sbagliate. Il presidente dice era mio dovere. Nessuno abbia troppi poteri dai rave ai migranti, i decreti nel mirino. L'autonomia differenziata, la Lega sfida la consulta, tensioni con gli alleati, mentre Ciriani dice il Parlamento è impegnato a fare altro. Tutti sanno che il terreno è delicato, nessuno a Palazzo Chigi commenta apertamente le parole di Sergio Mattarella. C'è chi le invita a leggere con più accuratezza senza fermarsi ai titoli dei lanci di agenzia e chi si limita a tacere. Intanto c'è anche la prima intervista al Ministro della Cultura a un giornale italiano, Giulio, io i tettoaggi di pace e il mio piano Olivetti. E ancora dal capo degli 007 al Novak Kennedy, la squadra di Trump, tendenza putiniana e naturalmente un riferimento alla composizione del governo guidato da Donald Trump. Mentre a centropagina vedete questa fotografia con la foto di Giorgia Meloni insanguinata, complice del genocidio, dice questo manifesto esibito dagli studenti. Scuola, protesta sfregiata, studenti in piazza contro la Premier. A Torino scontri, monumenti imbrattati e mole occupata. Mentre c'è anche un riferimento alla guerra in Ucraina. Schulz chiama lo zar, così si aiuta solo Mosca, scrive Anna Zafesova. Angela Merkel aveva smesso di parlare con Vladimir Putin già dieci anni fa. Per essere più precisi ha smesso di credere nell'utilità di parlargli dopo aver ascoltato fino a quasi all'alba a un vertice a Milano, dopo avergli parlato per quattro ore in Australia e dopo avergli telefonato più di una quarantina di volte in un anno. E ci spostiamo sul Sole 24 Ore, il giornale di Confindustria che ci porta sui temi di economia. Non prima però di aver dato uno sguardo a quel che sta avvenendo nella striscia di Gaza. Raide israeliani, 59 morti in Libano e 10 a Gaza, trattative per una tregua. Ma il titolo principale riguarda appunto i temi di economia a Cina. Con il maxiporto in Perù cresce il peso della Cina nell'America Latina. La presidente del Perù, Dina Bolluarte, e quello della Cina, Xi Jinping, hanno inaugurato il maxiporto di Cancai a un'ottantina di chilometri dalla capitale, Lima. La struttura dovrebbe attirare circa 3,5 miliardi di euro di investimenti per creare una rotta diretta attraverso l'oceano Pacifico ed espandere l'influenza di Pechino in America Latina. Una volta completate, le 15 banchine del porto lo renderanno il primo in Sud America in grado di accogliere navi da trasporto troppo grandi per attraversare il canale di Panama. E poi vedete di spalla questa fotografia. Enel in Spagna rileva dal gruppo Aciona 34 impianti idroelettrici, un'operazione da un miliardo di euro. Ma c'è anche un riferimento al prodotto interno lordo con Bruxelles che riduce le previsioni. Italia più lenta e rischi in crescita. Si parla della congiuntura economica. Leggiamo. La Commissione europea vede una leggera ripresa per l'economia europea. Il PIL dell'Eurozona è previsto a più 0,8% quest'anno e a più 1,3% nel 2025. Più lenta l'Italia, ferma a 0,7% nel 2024 contro lo 0,9% previsto a maggio e più 1% del governo. Il commissario Gentiloni con la svolta protezionistica americana i rischi geopolitici aumenteranno. Germania e Italia rischiano di più. E ci spostiamo sull'avvenire il giornale dei Vescovi italiani che titola La Chiesa allunga il passo. Il messaggio del Papa ai mille delegati riuniti in San Paolo fuori le mura a Roma serve con passione per preparare il futuro senza paure. Mentre il Cardinale Zuppi apre la prima assemblea sinodale lavorare con pazienza e intelligenza per l'unità del Paese. Leggiamo. Mettersi in discussione per continuare a parlare al mondo contemporaneo e con il Vangelo in mano. Dare risposto è alle donne e agli uomini del nostro tempo. Con questo ambizioso ma irrinunciabile obiettivo si è aperta ieri a Roma la prima assemblea sinodale delle chiese in Italia. Un evento che avvia l'ultima fase del cammino avviato tre anni fa in tutte le diocesi italiane. Nella Basilica di San Paolo fuori le mura a confronto un migliaio di delegati arrivati da tutta Italia. Castellucci, presidente del Comitato Nazionale, dice non un evento intra ecclesiale ma un modo per continuare a parlare al mondo contemporaneo. Mentre a centropagina vedete questa fotografia molto eloquente. Valencia sola nel suo fango a due settimane dall'alluvione tra ricostruzione al palo e rabbia. L'inviato a Valencia Pinot Ciociola scrive Acqua passata, fango no e neanche la rabbia della gente. La Dana, acronimo spagnolo per depressione isolata d'alta quota che due settimane fa ha scatenato l'inferno su 74 comuni intorno a Valencia, lascerà il segno a lungo. Per vedere i paesi più massacrati servono galosce e mascherine e ci si muove quasi solo a piedi. Calamità o no e cambiamenti climatici qui sono stati sfacciati. E ancora si parla della protesta degli studenti delle scuole in 30 città italiane. La protesta passa il limite. Scontri e slogan nel No Melony Day. Studenti in strada in 35 città. A Torino 15 agenti in ospedale. I due poli chiudono a Terni la sfida Umbra domani. E lunedì si vota anche per l'Emilia Romagna. Ma andiamo sulle vicende della diplomazia americana. Trump e Musk aprono ai piani per la pace in Medio Oriente. Possibili riposizionamenti in Medio Oriente. Trump avrebbe già approvato un piano per il cessate e il fuoco in Libano. Respinto però dal presidente del Parlamento di Beirut, Nabil Behr. E Musk ha incontrato in segreto l'ambasciatore iraniano all'ONU. E ci spostiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, il primo dei due giornali di Puglia e Basilicata. Il titolo riguarda l'autonomia differenziata messa a K.O. dalla Corte Costituzionale. Emiliano dà la consulta stop alle pretese del Nord. Sventato il referendum. Ma tensioni nel governo. Ma c'è anche tanta cronaca nera. Ragazzini killer per noia. Uccisero migranti a Bari. Arrestati in tre. Due sono minorenni. L'omicidio per testare una pistola. L'altra vicenda che è stato orrore in tutta Italia. E viene da Leporano a due passi da Taranto. Confessa il figlio della 73enne trovata morta. Ho strappato il cuore a mia madre. Tra loro un rapporto conflittuale. E poi ancora l'altra vicenda riguarda la Banca Popolare di Bari. La beffa delle azioni della Banca Popolare di Bari. Una maximulta agli ex vertici. E continuiamo con Puglia e Basilicata. Questa volta con l'edicola del Sud. Con le parole del ragazzo, dell'uomo arrestato proprio in provincia di Taranto. Le ho strappato il cuore. Salvatore Dettori confessa l'omicidio della mamma trovata morta nel giardino di casa a Leporano. I particolari horror ricostruiti davanti al magistrato. L'ho di come ci lascia sconcertati la vicenda dell'omicidio del clochar indiano per una prova in una ex struttura ospedaliera abbandonata alle porte di Bari. A ceglie del campo per la precisione. E poi c'è un titolo con una foto eloquente. Sempre più morti sulle strade della Puglia. E uno dei tanti incidenti sulle strade. I dati sono quelli dell'Istat. E ci spostiamo sul resto del Carlino, il giornale del gruppo quotidiano nazionale che titola Mattarella. La democrazia vive di regole. L'incontro con i ragazzi dell'osservatorio giovane editorio promulgato anche leggi che non condivido, ha detto Mattarella. Nessun potere prevalga sugli altri. Autonomia differenziata. Cosa cambia dopo la consulta? I governatori Gianni della Toscana legge da riscrivere mentre Fontana della Lombardia dice la sentenza ci dà ragione. Ma a centropagina ancora studenti in piazza, scontri e feriti. Torino fantocci dei ministri bruciati e slogan anti meloni. Ce ne siamo occupati. E ci spostiamo in Sicilia invece con il giornale di Sicilia. Il web non è il medico di fiducia. Monito di Mattarella sul caso della giovane di Lentini che aveva scelto l'ambulatorio sui social. Primi accertamenti della regione Lazio in quel centro non si poteva operare. Uno dei titolari infatti non avrebbe avuto le autorizzazioni specifiche. I generatori di Margaret non deve succedere a nessun'altra. Vedete la fotografia di Agatha Margaret Spada. Aveva 22 anni. Mentre a centropagina ancora i dati ISTAT allarmanti. Quelli che riguardano la Sicilia. Strade insanguinate aumentano i morti. Nel 2023 si sono verificati 10.830 incidenti che hanno causato il decesso di 241 persone e il ferimento di altre 15.855 rispetto all'anno precedente. Impennata del numero delle vittime. Più 6,6%. E ci spostiamo sui giornali del gruppo La Provincia. Li leggiamo rapidamente. Questa è Sondrio. Velocità, telefonini e alcol. Impennata delle multe. Meno incidenti sulle strade. Ma allarme ubriachi. 76 patenti ritirate. Ci spostiamo a Lecco che titola Scandalo. Pronto soccorso. Spesi 6 milioni mai chiuso. La nuova struttura è pronta da un anno. Mancano le autorizzazioni. Una vicenda che si ripete in molte parti d'Italia purtroppo. Poi vedete la provincia di Como che a Lario Fiere si occupa del turismo. Mancano 2.400 addetti. Ma il titolo principale riguarda ancora la viabilità. A Como si asfalta il viadotto. Una settimana da incubo. Da lunedì in azione i movieri. Cantieri un po' ovunque sulle strade. E quindi ci spostiamo sull'eco di Bergamo. Contributi mai versati all'Inps. Truffa da 11 milioni. Un arresto. Versamenti fittizi con la promessa di aumentare il valore delle pensioni. Una vicenda davvero inquietante. E ci spostiamo sul Messaggero, il giornale della Capitale, che invece titola sulla telefonata tra Scholz e Putin. Unione europea divisa. La telefonata a Berlino-Mosca dopo due anni. Ritira le truppe dell'Ucraina e negozia. Lo Liti sui commissari paralizzano invece Bruxelles. C'è anche un titolo che riguarda l'autonomia differenziata. La Lega sfida la consulta. Fratelli d'Italia e Forza Italia frenano. Si vada in Parlamento. E la pronuncia sul federalismo che cambia l'agenda della maggioranza del Parlamento. Ma c'è anche la cronaca nera. Margaret, la verità, arriva dall'autopsia. Stavano operando. Sotto esame i segni rinvenuti sul naso della vittima. La regione, quello studio, non aveva i permessi. L'autopsia su Margaret, la 22enne morta dopo il ritocco al naso a Roma. L'intervento era iniziato. Un quadro di sofferenza acuta che l'ha portata prima in coma irreversibile, poi alla morte per arresto cardiocircolatorio. Lo studio era senza permessi. L'attività operava da 15 anni ma non aveva le autorizzazioni della regione. A centropagina, libera e malinconica come parteno. Poi si parla del film di Sorrentino. Ma c'è anche un'altra notizia di cronaca nera di cui abbiamo già dato conto. Un tiro a segno sul clochard provava la pistola, arrestato un 21enne e due minorenni a Bari. Anche Schlein condanna gli studenti in piazza feriti i 20 agenti per la Premier Meloni. È un fatto inaccettabile. E ci spostiamo sul mattino, il giornale di Napoli, il giornale della Campania, che titola palestre al sud il 72% dei fondi. Gli investimenti proprio nel mezzogiorno. Mentre sull'autonomia differenziata la parola passa al Parlamento. La Lega pronta a sfidare la consulta. Forza Italia e Fratelli d'Italia invece frenano. Ma il titolo principale riguarda ancora una volta Scholz che chiama Putin. Unione europea spiazzata. Mossa della Germania. Il Cremlino risponde. La pace in Ucraina solo con i nuovi confini. Mentre Zelensky, irritato, dice così aiutate lo zar. Ma ci sono anche le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella. Io arbitro. ho promulgato leggi che non condividevo. Era mio dovere farlo. Sergio Mattarella risponde alle domande degli studenti che lo ascoltano per i 25 anni di attività dell'osservatorio permanente Giovani Editori. Il capo dello Stato fa considerazioni che da una parte suonano come appunti di diritto costituzionale. Dall'altra somigliano ad un monito per maggioranza e opposizione e dice sì a volte ho promulgato leggi che non condividevo ma era mio dovere farlo. E poi c'è un riferimento al turismo in vista delle festività natalizie a cominciare dal Ponte dell'Immacolata. Hotel occupati dal 90%. Turisti. Napoli è già sold out. A Capodanno quattro notti di show. E ci spostiamo e chiudiamo con il quotidiano del sud. L'altra voce dell'Italia. Il giornale della Calabria che si occupa più in generale dell'intero mezzogiorno. Autonomia differenziata adesso basta. La disfatta leghista non spiace agli alleati di governo. I sette punti della legge Calderoli, riconosciuti fondatamente in costituzionali, dovrebbero mettere fine alla scombiccherata avventura autonomista. Anche la rapidità della consulta nel far conoscere le proprie decisioni dovrebbe far riflettere. Ma la Lega non sembra rassegnata. Ma c'è anche un titolo sulla sanità. Meno risorse per il Nord. Primi passi per la perequazione. Il nuovo decreto sulle tariffe ne scrive Giovanna Gueci. L'obiettivo, ed è qui il vero passo in avanti, è quello di garantire su tutto il territorio nazionale la piena erogazione dei nuovi LEA, i livelli essenziali dell'assistenza, previsti dal DPCM del 12 gennaio 2017, assicurando a tutti di poter usufruire, a prescindere dal territorio di appartenenza, sottolinea il Ministero della Salute, di prestazioni al passo con le innovazioni medico-scientifiche per la specialistica ambulatoriale e per la protesica. È quello che più conta, superando le disomogeneità assistenziali tra i cittadini, quelli di serie A e quelli di serie B, sottoposti fin qui alle disuguaglianze di accesso a numerose prestazioni, erogate in modo insufficiente o non erogate affatto dalla rispettiva regione di residenza, con tutto ciò che è derivato in tema di insufficienza assistenziale, povertà sanitaria, migrazione sanitaria e rinuncia alle cure. Il nuovo decreto tariffe per l'assistenza specialistica sanitaria e protesica, che entrerà in vigore il 30 dicembre, oltre sette anni per trovare un accordo tra i Presidenti delle Regioni e il Ministero della Salute, rinnovare una nomenclatura vecchia di 25 anni, è arrivato con l'intesa in conferenza Stato-Regioni. E poi c'è un riferimento anche all'inflazione che sta rialzando la testa, il PIL italiano in ritirata, la Commissione europea, taglia ancora le stime. Ed era questo l'ultimo argomento del quale ci siamo occupati nel corso di questa rassegna stampa, che torna lunedì, stessa ora, stessa rete, per il momento non andate via, restate con i nostri programmi e buon weekend.